Ok, ciao bambini e ciao bambine, vi saluto anche Trilli. Allora, questo pomeriggio vorrei spiegare, andare avanti con le regioni dell'Italia meridionale e spiegare la Basilicata che trovate a pagina 150-151 del vostro libro di testo. Dalla settimana scorsa abbiamo iniziato a vedere le regioni dell'Italia meridionale che sono Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e le due isole che vedremo. Le ultime due, Abruzzo e Molise, il libro le tratta già come Italia meridionale, come avevo già detto in un'altra lezione, ma sono considerate comunemente regioni del centro. Ok? Comunque stanno lì, a metà, tra il centro e il sud. Vi ricordate innanzitutto perché il sud Italia viene chiamato Mezzogiorno? Penso di sì, è un concetto che abbiamo visto in terza e poi ripassato. La risposta è che Mezzogiorno è un altro nome per chiamare la posizione del sole a... cioè è la posizione del sole quando il sole, che sto dicendo, non lo so, è un altro nome per indicare il meridione o anche il sud. Inoltre, ricordiamoci anche, guardando quando iniziamo ad affrontare l'Italia meridionale, che arriviamo proprio in quella parte dell'Italia in cui la terraferma finisce con quella caratteristica la forma di punta che è data dalla Calabria e che vedremo tra poco. Due cose in generale sulle caratteristiche delle regioni dell'Italia meridionale che non vi avevo detto settimana scorsa, sono informazioni generiche che sul libro non ci sono. Diciamo che le possiamo dedurre dopo aver studiato le ultime regioni. Comunque ci avranno delle cose in comune anche loro. Allora, intanto, vabbè, che ci sono due isole che sono regioni a statuto autonomo, lo sappiamo perfettamente. Il territorio è quasi sempre occupato da montagne o colline. C'è pochissima pianura, motivo per il quale è stato difficile costruire le vie di comunicazione in queste regioni da parte dell'uomo. Parlo di grandi ferrovie, autostrade, eccetera. Ci sono, perché ci sono, ma sono ancora molto poche rispetto a quelle presenti al nord e al centro. Le pianure sono molto piccole e si estendono principalmente lungo le coste, cioè lungo le coste dei mari. I mari sono due. Adriatico, ancora un pezzettino per la Puglia, ma poi fondamentalmente avremo il Mar Ionio a sud-est e il Martirreno a sud-ovest. Abbiamo dei vulcani, elemento importante che nelle altre regioni non avevamo. Abbiamo ben quattro vulcani. Sicuramente ti ricorderai i nomi perché li avrai studiati l'anno scorso con la maestra Valeria. E tre sono ancora in attività, cioè, come sapete, possono ancora eruttare, anche se nei dintorni sono stati costruiti insediamenti, città, cittadine, paesi, eccetera. E l'uomo in qualche maniera ha imparato a conviverci, esattamente come altri fenomeni naturali come i terremoti. Anche se ci vogliono sempre degli attenti monitoraggi, osservazioni costanti, quotidiane su questi fenomeni, che, come sapete, non dipendono dall'uomo. L'uomo ci può convivere quando sono spenti, quando non sono attivi, e può correre ai ripari nel caso di minacce imminenti. Allora, i tre vulcani sono l'Etna, lo Stromboli e il Vulcano. Poi abbiamo il Vesuvio, che però non è più attivo, quindi il Vesuvio è spento, è a riposo. Tantissime sono le coste, tantissimi sono i promontori e i golfi. Sia nelle due isole, Sicilia e Sardegna, ma anche nelle altre quattro regioni. Anche nell'Italia meridionale il processo di costruzione degli insediamenti, eccetera, da parte dell'uomo è antichissimo, così come nel resto dell'Italia. Però sono antichi anche i problemi numerosi, che hanno afflitto sempre queste regioni, che per quanto siano meravigliose dal punto di vista naturalistico, fisico, eccetera, eccetera, però hanno sempre presentato all'uomo non pochi problemi dagli altri punti di vista economici in particolare. Vediamo quali sono. Beh, uno l'abbiamo già visto, il problema della siccità che riguardava la Puglia originariamente e della scarsità di corsi d'acqua, fattore che come capirete ha inciso profondamente nel settore dell'agricoltura e della produzione dei beni primari. Un'agricoltura in parte meccanicizzata, cioè in parte modificata dall'avvento dell'industria e della tecnologia e un turismo che in particolare nel Sud Italia fatica ancora oggi, isole a parte, a svilupparsi e a prendere piede. Nonostante le ricchissime possibilità, per una carenza di attrezzature e per tutto un discorso fondamentalmente di tipo economico, non per mancanza chiaramente di proposte, di luoghi di bellezza. Le vie di comunicazione, come vi dicevo, non sono ancora sufficienti nemmeno per mettere a contatto velocemente le ultime regioni del Sud con le due isole. Certo, ci si muove, si va, si viaggia, ci sono gli aerei, mi direte, ma io vado in nave, al mare, vado in Sardegna in vacanza, come tanti mi dicevano, ok? Però, per quanto riguarda gli spostamenti più brevi o comunque più locali, non ci sono sicuramente le comodità e le velocità che appartengono al nostro territorio. E soprattutto, ripeto, per quanto riguarda gli spostamenti via terra. E pensate a quante persone hanno bisogno di muoversi e di spostarsi, perché tutto questo ha causato una forte emigrazione, già ormai da decenni, che hanno portato le persone a spostarsi al nord e verso le grandi città del centro, per il centro parliamo solo di grandi città, che sono quelle più popolate, in cerca di condizioni migliori, lavoro, in primis, eccetera, eccetera. Pensiamo a quanti di voi, già lo dicevamo a scuola, non sono originari di Dorno o paesi limitrofi, ma hanno o la mamma o il papà provenienti da altre regioni. Ormai è una cosa molto diffusa che qui, per esempio in Lombardia, non siamo tutti lombardi ad hoc, come dire, ma così come nelle altre regioni un'alta percentuale è fatta di persone che arrivano da altre regioni, sono originarie di altre regioni. Bene, detto questo parliamo della Basilicata. Allora, la Basilicata era chiamata anche Lucania, perché come abbiamo studiato quando abbiamo fatto i popoli italici, era la terra dei Lucani, che erano stati un popolo italico. Dopodiché ha preso invece il nome di Basilicata. Il capoluogo, a volte mi sfugge capitale, perdonatemi, ma intendo dire che è sempre capoluogo, è Potenza, e abbiamo un'altra città che fa provincia, che è Matera, che è anche caratteristica dal punto di vista turistico, perché ospita delle case, tutte bianche, le vedete la fotografia anche a pagina 151, costruite con una pietra bianca chiamata Tufo, che sono chiamati i cosiddetti sassi di Matera. Pensate che queste abitazioni hanno un'origine, venivano utilizzate già dalla preistoria, poi chiaramente quelle lì non sono quelle proprio originarie dalla preistoria, della preistoria, ma comunque sono state abitate queste casette già dal periodo preistorico fino al 1965. Non ha molti abitanti, perché siamo più o meno sui 600.000 abitanti, che principalmente si concentrano a Matera e a Potenza. Tenete presente che è una regione quasi interamente montuosa, quindi difficilmente abitabile. Abbiamo l'Appennino Lucano, e quindi poco ospitale. Allora, però ha una pianura che si affaccia sulla costa ionica, quindi ricordatevi che il Mar Ionio è a Est. Quindi, se voi mi guardate, non so come viene il video. Comunque, se guardate me, questo è il mio... Non voglio incasinarvi. Comunque, guardate la cartina che è meglio. Il Mar Ionio è a Est e a Ovest, invece, abbiamo il Mar Tirreno. Sulla costa tirrenica abbiamo anche un golfo, che è il Golfo di Policastro. Mentre, come vi dicevo, sul Mar Ionio abbiamo la Piana di Metapunto, che è una pianura. È l'unica pianura che c'è in Basilicata. Infatti, se guardiamo l'aerogramma, solo una fettina verde molto piccola è di pianura, dell'8%. Allora, abbiamo dei fiumi appenninici, perché siamo sempre sugli appennini. L'appennino è lucano, che forma un arco insieme agli altri appennini delle altre regioni. si sviluppa ad arco, dicevo, in Campania, in Basilicata e in Calabria. E continuo poi nella Sicilia settentrionale. Quindi i fiumi sono appenninici, sono il Basento, il Bradano, l'Agri e il fiume Simni. Il rilievo più alto, la cima più alta dell'appennino Calabro-Lucano o Lucano, è il Monte Pollino, che è alto 2248 metri. Nella parte orientale, quella che dà poi sulla pianura, abbiamo anche una consistente fetta collinare. Ricordiamo che qui abbiamo un territorio segnato da tanti, caratterizzato dai Calanchi. I Calanchi erano delle formazioni, delle erosioni, quindi delle incisioni che l'acqua fa sui rilievi, a causa del suo perpetuarsi nel tempo, nell'arco di un lungo, lungo tempo. Quindi abbiamo delle colline argillose e aride, e se guardate in basso a pagina 150 vedete queste colline che non sono proprio le tipiche colline che abbiamo conosciuto finora, ma sono colline erose, aride, quindi senza vegetazione, tutte segnate come da una sorta di rughe, ecco, passatemi la parola, da incisioni del clima, quindi dell'aria, delle precipitazioni, delle piogge, l'erosione. Voi vi ricordate che per creare una montagna o una collina viene prodotta da più agenti atmosferici. Le coste sono sul versante ioniche, ionico, basse e sabbiose, e sul versante tirrenico, alte e rocciose, con tante insenature e un golfo che è il golfo di Policastro, come vi ho detto. Il clima è appenninico in montagna, con precipitazioni anche nevose e mite mediterraneo nel piccolo tratto di costa. Potenza è il capoluogo, e è 819 metri sul mare. Ha un bel centro storico ed è famosa anche perché ospita l'Università della Basilicata, quindi gli studenti ci vanno a studiare. C'è un'altra città che è Amatera, che come vi ho detto è conosciuta per i sassi, che erano delle abitazioni grotte che scavate nel tuffo e abitate dalla preistoria al 1965. Già mi sento la vostra domanda, ma maestra, ma sono proprio le abitazioni della preistoria? Mi. Le prime sono state costruite nella preistoria e diciamo che poi l'uomo le ha sempre utilizzate fino agli anni 60. Poi sono entrate a far parte del patrimonio dell'umanità dal 1993, il che significa che sono stati considerati un bene turistico internazionale, per cui sono rimaste solo sede di turismo, non ci abita più nessuno. Infatti se le vedete, a pagina 151 sono vuote, sono disabitate. Gli abitanti vivono quindi nei centri abitati, ma sui rilevi dove è possibile. Molta è l'emigrazione al nord. Per quanto riguarda l'agricoltura, insieme all'allevamento, il settore primario è sempre stato l'ambito più gettonato dalla popolazione, finché non sono arrivate le industrie e il fenomeno della meccanicizzazione, cioè dell'utilizzo dei macchinari che hanno sostituito il lavoro di braccia dell'uomo, e molti si sono occupati, sono andati ad occuparsi del settore terziario o si sono trasferiti. Le colture più estese sono quelle di grano, avena, orzo, quindi cereali, ma sono anche diffusi olivi, viti, frutta, in particolare agrumi sulle coste ioniche e le viti e gli olivi in collina. Abbiamo poi una fetta di allevamento di ovini, caprini e suini che in particolare si concentra in provincia di Matera. Abbiamo poi per quanto riguarda il settore secondario diverse industrie, in particolare in crescita nelle città, quindi potenza e Matera. In particolare riguardano i settori alimentare, tessile, chimico e petrolchimico, poiché nel sottosuolo in particolare della Valle del Basento ci sono il sottosuolo della Valle del Basento è ricca, che è un fiume, è ricco di giacimenti di petrolio e di gas metano che quindi vengono estratti e lavorati. C'è poi uno stabilimento a Melfi che è un'altra città della Fiat, poco sviluppato è il turismo, ripeto, che è culturale, balneare e montano, che però non ha ancora preso tanto piede come in altre regioni, per tutta una serie di fattori che vi ho detto prima, che riguardano le caratteristiche delle regioni del nord, del sud. Vediamo se è tutto chiaro. Prendiamo il libro a pagina 150. La Basilicata è una regione del sud Italia. Vediamo se manca qualcosa che non c'è sul libro di importante. non avevo qui un altro testo fatto bene, però mi sembra che di avervi detto di tutto e anche di più. Direi che va bene così. Abbiamo anche la pesca e abbiamo anche tanti resti della Magna Grecia, quindi un turismo di tipo storico-culturale. Comunque va benissimo quello che c'è sul libro e poi lo schema. Allora, per compito, prima che mi dimentico, avrete da studiare la Basilicata. Vi do lo schema già fatto anche se confesso che mi piacerebbe darvelo da fare a voi perché li ho sempre fatti praticamente io e mi piacerebbe che lavoraste voi un po' sul testo. Adesso ci penso. E poi passiamo a fare due pagine sull'eserciziario azzurro, le solite. Allora, la Basilicata è una regione del sud Italia bagnata per due brevi tratti dal mare. Confina a est con la Puglia, a sud-est si affaccia sul Mar Ionio, che lo vedete a est, a sud confina con la Calabria, che è la regione della punta dello stivale, a sud-ovest è bagnata dal mar Tirreno, dove c'è il golfo, a ovest confina con la Campania e a nord con la Puglia. il territorio è prevalentemente montuoso e collinare. A ovest si innalza l'Appennino Lucano, che prende il nome dall'antica denominazione della regione. Infatti, in origine, la Basilicata si chiamava Lucania, perché era abitata dal popolo dei Lucani. Al confine con la Calabria, svetta, cioè, si alza, si erge il Monte Pollino, che è la cima più elevata. A sud-est il paesaggio è costituito, è caratterizzato dai Calanchi, perché il terreno argilloso ha subito l'erosione da parte dell'acqua piovana. Vi invito ad andare a cercare per ripassare che cos'era l'erosione. Vi invito ad andare a cercare sul dizionario la definizione per chi ha piacere. L'unica pianura è la Piana di Metaponto, situata sulla costa ionica e formata dai detriti trasportati dai fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni. La costa ionica è bassa e sabbiosa, mentre la costa tirrenica è alta e rocciosa e ricca di insienature. Il clima nell'interno è appenninico, con precipitazioni intensi anche di tipo nevoso e nei brevi tratti di costa è mediterraneo. Pagina 151 La popolazione e l'economia La Basilicata è una regione scarsamente popolata. Vado a vedere lo specchietto azzurro e mi dice che ha 570.365 abitanti. Questo perché la montuosità del territorio non ha permesso un pieno sviluppo economico. In passato molti abitanti sono stati costretti a cercare lavoro in altre regioni italiane o all'estero. Oggi la popolazione risiede principalmente a Potenza, Matera e nella piana di Metaponto. L'agricoltura viene praticata nelle zone più ricche di corsi d'acqua, specialmente nella piana di Metaponto. Siamo in pianura. Si ricavano cereali, olivi, ortaggi, agrumi e frutta, in particolar modo le fragole e i fichi. È caratteristica la coltivazione delle fragole appunto della piana di Metaponto. Avete la fotografia. L'allevamento di ovini e di caprini è piuttosto diffuso e fornisce latte per la produzione di formaggi. Il sottosuolo lucano in particolar modo nella valle dove scorre il fiume Agri è dotato di giacimenti di petrolio e gas metano. Per questo sono presenti industrie chimiche e petrolchimiche. Nella valle del Basento ci sono anche stabilimenti tessili alimentari del settore del legno e dell'arredamento. Il turismo non è molto sviluppato ma da alcuni anni è in crescita. Le località più visitate sono i centri abitati costieri sia sul Marionio sia sul Martirreno e i luoghi di interesse storico e artistico. Per esempio Matera accoglie un numero sempre maggiore di turisti grazie alle antichissime abitazioni conosciute come i Sassi di Matera. Tutto chiaro? Direi di sì. Sapete che una volta ve lo spiego e una volta lo leggo quindi se ascoltate tutta la lezione tanto bravi se non vi siete addormentati e vi entra un pochino in testa. Allora per compito avrete pagina 64 65 66 attenzione che la 64 è una finta pagina di compito perché avete solo disegnato le cartine dovete fare confronto tra Puglia e Basilicata vediamo pagina 65 velocissimamente arrivo al trentesimo minuto e metto giù anche perché non immaginate quanto tempo ci voglia non tanto per registrare questi video ma per caricarli su internet non chiedetemi perché allora la pagina 65 vi chiede completa il testo seleziona sottolineando le alternative corrette dai facciamolo un attimo insieme entrambe le regioni sono situate nell'Italia del sud beh dai se mi sbagliate questa vi strozzo la Puglia si trova a la Basilicata si trova a una si troverà a ovest o parte occidentale o centrale e una a est confini vi consiglio di fare questo esercizio dopo che avete copiato gli schemi e tenendoli magari sott'occhio quale affermazione contiene un errore indicala con una x e scrivila correttamente qui dovete fare voi i maestri quindi entrambe le regioni si affacciano sui due mari la Basilicata confina con la Puglia a nord e a est le regioni con cui confina la Puglia sono Basilicata Campania Lazio e Molise dovete semplicemente guardare la cartina territorio completa il testo con le parole mancanti le parole da inserire sono appennino lucano laghi costieri piana di metaponto fiumi pianeggiante penisola salentina leggo il testo bucato voi fate pausa e poi fate play ogni volta che inserite una parolina il territorio pugliese è soprattutto le pianure principali sono il tavoliere e la zero non mi ricordo la Basilicata invece è occupata in gran parte dai rilievi del che saranno chissà che sarà e l'unica pianura presente è rappresentata dalla abbiamo visto poco fa questa pianura ha origine alluvionale infatti si è formata grazie ai retriti trasportati dai che scorrono nel territorio nell'interno della Basilicata si trovano diversi laghi artificiali mentre in Puglia sono presenti due due bo che si affacciano sul mare Adriatico colora ogni cartellino di rosso se contiene un elemento geografico della Puglia e di verde se della Basilicata giallo se è appartenente a entrambe quindi colorate le caselline andiamo pagina 66 e dovete fare un confronto un breve riepilogo degli aspetti economici avete un diagramma di confronto tra Puglia e Basilicata quindi completate la Puglia e la Basilicata Puglia è una regione a statuto abitata da molte persone la popolazione vive soprattutto mettete dove invece le zone meno abitate sono quelle poi dovete mettere settore primario secondario terziario copiate lì dal mio schema ok non ci vuole molto soprattutto se chi lo studia lo vuole scrivere senza copiare altrimenti non dovete fare altro che copiare con la vostra piccola manina ok ci vediamo per storia e ci vediamo settimana prossima online